Daio la 77, oggi 4 articoli, abbiamo 21 giugno 2020. Raconterò una cosa che a molti sembrerà assurda, eppure è così. Central Bank of Sardinia. A partire dalla metà degli anni Ottocento, dove dappertutto dominavano bizantini, arabi, feudalesimo e zanzare, quando dappertutto era miseria e devastazione, evidentemente stiamo parlando del Medioevo, si mettevano le basi per costruire un regno prospero e felice. In quegli anni la potenza bizantina, che aveva dominato in lungo e in largo, andava scemmando sotto la pressione musulmana. La Sardegna dovette contrastare da sola lo strapotere delle armate islamiche, e dopo alterne vicende riuscì a preservare con successo i propri confini. Ormai era nata una nuova entità, capace di agire autonomamente. Nacquero così i giudicati, uno a Caralis, uno a Tarros Arbaree, uno in Logodoro e uno in Gallura. A capo di ciascun giudicato era un giudiché, un vero e proprio sovrano, ma che differiva da tutti i sovrani dell'epoca per il fatto che era proprietario dei suoi beni di derivazione familiare, ma non dei beni del giudicato. Ogni contrada veniva rappresentata da un maggiore debida. E le funzioni politico-legislative erano affidate alle Assemblee dei Sardi. Per il fatto che i beni appartenenti ai giudicati non erano ascritti al giudiche, che quindi non ne poteva disporre personalmente, potrebbe sembrare che i sovrani sardi non fossero così ricchi come altri sovrani di quei tempi. Eppure si sa che alla fine del XIII secolo la giudichessa di Arbaree prestò una ingentissima somma di denaro al doge della Repubblica di Genova. Durante l'epopea dei giudicati tutta la terra di Sardegna era ricchissima, ben più ricca di qualsiasi altra entità statuale del periodo. Ad un'economia prospera e moderna si affiancavano le estrazioni minerarie, che riguardo alla nostra storia sono definibili eterne e di immensa importanza. Gli allevamenti erano gestiti anch'essi in maniera razionale, e fornivano carne, lana e latte in abbondanza, così pure dicasi per la produzione del sale, anche essa eterna, e per svariate attività artigianali. I boschi erano integri, Cavour è ancora di là da venire, e fornivano sostentamento ai montanari. In epoca giudicale la Sardegna era il posto ideale in cui vivere, oltre che una economia floridissima, un regno che poteva vantare la stesura, durante il regno di Eleonora, della carta del logo prototipo di tutta la giurisprudenza occidentale. La gente legiferava direttamente attraverso assemblee sovrane di donne e uomini liberi, e tutto il percorso giudicante veniva gestito autonomamente, potremmo dire in poche parole, il regno dei liberi. Questa era la Sardegna giudicale, una terra che si poteva permettere il lusso di prestare denari ai banchieri più ricchi del periodo. Questa era la Sardegna giudicale, dove dappertutto imperava il Medioevo e il Feudalesimo con tutte le sue strutture. qui esisteva la vera democrazia esercitata direttamente dalla gente. Esisteva persino una norma che, sia legalmente che legittimamente, consentiva al popolo di rovesciare il sovrano se egli non fosse stato capace di assicurare democrazia e prosperità. Cosa dire di questo fatto? Meritocrazia allo Stato puro. La democrazia delegativa attuale impallidirebbe di fronte a questa situazione. Prendiamo esempio da questo modello di società per capire che quello attuale è un sistema che fa solo gli interessi delle oligarchie in sfregio alla gente. Le assemblee sovrane degli uomini liberi non sono nate in epoca giudicale, sono nate in tempi antichissimi quando di fronte a siti archeologici, che allora non erano archeologici, avevano una funzione, venivano costruite delle esetre, delle rotonde. E quelle rotonde, oltre che esercitare una sorta di spiritualità da parte della gente, venivano molto probabilmente usate per accogliere un'assemblea popolare di gente libera e libera anche di decidere. Come al solito, inutile scriverlo, dalla Sardegna può partire un esempio per tutte le democrazie attuali, il sistema meritocratico delle assemblee sovrane degli uomini liberi nel rispetto assoluto del diritto divino. Passiamo a un secondo articolo. Come vogliono trasformare la Sardegna in una immensa conigliera. Alcuni giorni fa ho avuto una discussione abbastanza movimentata con un tizio imperfetto, stile tiracampà. Mi diceva che se non mi piace come vanno le cose in questa società, posso benissimo cambiare nazione. gli ho risposto che la mia nazione è la Sardegna e invece di andarmene da questa terra che amo, preferisco lottare per cambiare radicalmente questo sistema fettente. Non so se ha capito bene quello che intendevo dire, spero di sì. il bestiamo il bestiamo umano va spontaneamente al mattatoio. Questa è una verità assoluta. Ai mandriani, quelli che portano le bestie al pascolo che decidono loro, piace giocare a fare i furbi con la mandria di loro esclusiva proprietà e riescono a fare giochi di prestigio che la mandria non riesce a spiegare. Ciascuno ha la sua logica, evidentemente la logica di cui dispone, decide, stabilisce molto diversa da chi è destinato a subire. Fetension, cioè il proprietario delle mandrie che pascolano per tutto il pianeta, pianifica in anticipo tutto quello che farà succedere. E allora la mandria non si deve stupire se una repubblica non ancora costituita sia stata iscrita ad una organizzazione finanziaria dodici anni prima della sua nascita. Vediamo di vedere bene questo. 1934, anno in cui 1934 c'è un regno, il Regno d'Italia, è l'anno in cui si iscrisse al Security Exchange Commission non come regno ma come Italy Republic of C.I.K. 50 52 782 Vittorio Emanuele III Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia era re d'Italia dal 1900 al 1946 l'anno in cui abbiamo detto che Italy Republic si è iscrita al SEC nel 1934 quindi durante il regno di Vittorio Emanuele III nel 1946 dopo la seconda guerra mondiale nasce la Repubblica Italiana o 1934 Italy Republic 1946 Repubblica Italiana quindi l'Italia viene registrata 12 anni prima della sua Costituzione e questa figurina qui mi sembra che sia abbastanza perplessa come penso tutti in Italy nel 1934 esisteva un sistema abbastanza ambiguo una specie di regno dove chi regnava non era il re ma il capo del governo si decise che era venuto il momento di iscrivere lo Stato italiano ad un ente finanziario di Washington il Security Exchange Commission Chiunque si sarebbe immaginato che sarebbe stato giusto iscrivere lo Stato italiano per quello che effettivamente era un regno e invece no e invece no nel 1934 venne iscritta la Repubblica Italiana una Repubblica inesistente se non nelle menti malate delle fetenzie un gioco di prestigio incomprensibile per noi esseri umani portati al pascolo da petension mettetevi in testa mettiamoci in testa una cosa mai la gente ha contato o deciso qualcosa quando pure ha fatto qualche rivoluzione lo ha fatto sotto le direttive delle massonerie ma con questa operazione le è stata sbattuta in faccia la verità che il potere gode a farsi beffe del popolino ignorante bestiame niente altro che bestiame hanno capito che possono prendersi gioco della gente quando vogliono nelle maniere più impensabili ed hanno inventato così una formula per far credere alla gente che tutte le decisioni politiche e sociali erano appannaggio del popolo ma quando mai deghisa nasceva così la democrazia delegativa in auge in quasi tutto il pianeta forse adesso riuscite a capire meglio che cos'è la democrazia delegativa e capire anche che andare a votare non serve a niente serve solo ad avvallare il potere che già hanno sul bestiame e il bestiame umano era contento di partecipare a questo punto bisogna definirlo strano di partecipare allo strano rito delle elezioni andava al matatoio della logica speranzoso della logica e anche il matatoio reale speranzoso di poter cambiare in meglio la propria vita l'importante non è decidere è decidere chi decide per noi l'importante è sapere che le elezioni si sono svolte da chi crede che depositando un pezzo di carta segnato da matita copiativa in una scatola di cartone decide il suo futuro consigliamo di destarsi dal sonno profondo indotto da Fetension andate a votare ragazzi mi raccomando andate a votare una eterna storia di sfruttamenti selvaggi schiavismo niente altro che neoschiavismo prima impongono la globalizzazione dopo dopo e anche prima creano devastazioni in Africa poi favoriscono immigrazioni clandestine infine spingono per favorire il lavoro di queste vittime africane lo vediamo ogni giorno questo con il neo ordo liberismo selvaggio hanno creato le condizioni per uno sfruttamento globale del lavoro e al contempo spopolando l'Africa trovano terreno fertile per lo sfruttamento ambientale e selvaggio di quel disastrato continente quando sentite qualcuno che vi dice ah noi noi abbiamo sfruttato l'Africa ma noi chi noi chi noi la gente assolutamente no ma noi traiamo vantaggi da dallo sfruttamento delle risorse africane ma noi ma noi chi ma non esiste cioè chi trae vantaggio sono le fetenzie come sono sardo e lotto qui per la liberazione della mia terra così questi africani illusi dalle sirene occidentali delle fetenzie dovrebbero rientrare nelle loro terre e lottare per la liberazione dei loro popoli di l' Grazie a tutti